E' stato presentato il programma di teatro e danza promosso dalla CEDAC, servizio di Emanuele Floris. Ormai alle porte la quarantesima edizione della stagione di teatro e danza promossa dalla CEDAC, presentata nei giorni scorsi con i suoi 13 titoli, vedete come Neri, Marco Rea e Ambrangiolini, lavori di Peter Stein e Alessandro Serra insieme al programma di danza. Contemporaneo, moderno, si spazia molto con grandi firme anche a livello internazionale, come per esempio Eva Duda che porterà un suo lavoro originalissimo sulla vita di Frida Kahlo, ma anche Cicos Mambos che sicuramente delizieranno anche chi non è appassionato di quest'arte con la loro ironia e la loro gioia nel Carmen. Da Simone Cristicchi e gli spettacoli di Azzepetec e Paolo Genovese, il cartellone promette di attrarre un vasto pubblico. Ipotizzo che sarà una stagione scintillante, il cartellone è veramente di grande curiosità con dei nomi anche curiosi. Dalla CEDAC all'evento di Capodanno è impossibile non commentare l'arrivo di Gianna Nandini con il suo repertorio. Tantissime canzoni che faranno cantare e ballare tutti noi e quindi pensiamo che Capodanno potrà essere davvero una bella festa e che possa essere un momento di gioia e di divertimento per tutti i nostri concittadini e non solo.